Verona si appresta ad ospitare venerdì prossimo l'edizione 2014 di Arena di Pace e Disarmo. Stamattina la presentazione alla presenza di padre Alex Zanotelli che ha ricevuto il sostegno ufficiale del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Sentiamo Matteo Mokorovicic. Il mail dal Vaticano è arrivata al comboniano padre Venanzio Milani. L'ha legato una lettera e del segretario di Stato, il cardinale Vicentino Pietro Parolin, che scrive «Assicuro la mia preghiera affinché il vostro impegno produca frutti di concordia in sintonia con quello che dice il Papa». Testo non di poco conto perché è l'appoggio ufficiale del Vaticano alla manifestazione per la pace e il disarmo che si terrà in arena a Verona venerdì 25 aprile. Padre Alex Zanotelli, anima del raduno, ci scherza. È il primo segretario di Stato che ci scrive, dice, ma in fondo è vero. E la cosa lo inorgoglisce. Penso che il 25 con la festa della liberazione abbiamo voluto riproporre un'arena di resistenza, ma questa volta di resistenza non armata, non violenta, contro un sistema davvero che sta uccidendo. C'è in atto una guerra contro i poveri. Ammazziamo dai 30 ai 50 milioni all'anno di poveri per fame. Ammazziamo per guerre. Allora in questo spirito noi vogliamo proporre tutta una serie di alternative, soprattutto un no a questo spaventoso riarmo. Ci saranno laici e religiosi come in passato, negli appuntamenti degli anni 80 e 90. Il punto adesso, ricorda Padre Zanotelli, è dire basta alla guerra e sì al disarmo militare. Noi abbiamo una serie di guerre spaventose in giro. Quelle più menzionate sono la Siria, per esempio, in questo momento, ma io parlo per esempio dell'Africa, di cui si parla pochissimo.